Come l'anno scorso, quest'anno con particolare attenzione, visto l'aumento preoccupante dei contagi, ho inteso con il Comitato Ordine di Sicurezza Pubblica, ho disposto con ordinanza il divieto di accampamenti, il divieto di assembramenti, il divieto di feste con assembramenti e al tempo stesso il divieto di fuochi per consentire di garantire non soltanto la salute anche la vività per quanti nel giorno di ferro agosto saranno presenti a Palermo, cittadini e tantissimi turisti.